Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san Paolo al manacco di bellezza 18 maggio Leonardo Piccinini Piero Maranghi Leonardo a Siena c'è Camelot cioè c'è questo luogo questa accademia musicale dove sono passati tutti ne abbiamo parlato lo sapete e un quadro tra gli altri meraviglioso il Beccafumi il Beccafumi dell'accademia chigiana è un quadro di rarissima bellezza e noi oggi vogliamo parlare proprio di questo artista un artista simile solo a se stesso si molto riconoscibile per questo molto riconoscibile un artista sul Fureo un artista che racconta la sua città e l'orgoglio senese meglio di qualunque altro perché le grandi opere di Beccafumi sono conservate a Siena sostanzialmente si vede a Siena il Beccafumi è un pittore di tendenza manierista prima ancora di Pontorno di Rosso Fiorentino anche perché è più anziano di quasi dieci anni di entrambi quindi inizia dieci anni che cambiarono il mondo nel senso che in quei decenni non questi in particolare cambiava tutto in maniera in maniera molto radicale senti noi ne parliamo perché lui a Siena si spegne il 18 maggio del 1551 e si era formato su tutto su tutto il suo è uno stile molto preciso molto definito in cui ci sono tante tendenze dalle manie gotiche del nord alla classicità romana vede l'antico vede l'antichità e ovviamente a Firenze a Firenze attraverso i grandi maestri e a un artista che è un po' è un trade union tra l'antico mondo e il mondo di questi giovani bizzarri cioè Fra Bartolomeo la pittura mistica che cerca di andare oltre il rinascimento la serenità il mondo delle lettere senti le sue opere propongono un linguaggio appunto nuovo la rottura dei razionali equilibri rinascimentali ci sono appunto questi elementi di inquietudine se lo vedi a lume di candela ti fa paura può fare paura e poi i colori i colori del beccafumi che colori leonardo allora raccontiamo qualcosa della vita di questo artista non abbiamo molte fonti sulla sua biografia ovviamente ci viene in soccorso sempre lui l'aretino vasari di cui beccafumi era amico quindi ne parla bene al contrario dell'altro senese d'adozione e cioè il sodoma beh l'abbia raddetto povero sodoma il povero sodoma fa una figura barbina la data di nascita viene ricavata ritroso dalle vite del vasari perché vasari ricorda la morte dicendo che aveva compiuto 65 anni quindi più o meno sarebbe nato intorno al 1486 nasce a montaperti luogo simbolo la battaglia di montaperti quella di dante rosso di sangue il fiume arbia figlio di giacomo o jacopo di pace che era un contadino era detto il mecherino che forse gli derivava dalla sua statura bassa e non si chiamava beccafumi no faceva pace di cognome si beccafumi deriva dal suo protettore cioè quello che lo avvia agli studi e all'arte tal lorenzo beccafumi beccafumi era il padrone del fondo su cui lavorava la famiglia dell'artista quindi era un po il padrino di questo straordinario talento e sarà proprio questo beccafumi a intuire le potenzialità del ragazzo e a farlo quindi studiare a siena prima e poi naturalmente in firenze dove lui vedrà le opere di tutti cioè fra bartolomeo il perugino vedrà tutto quello che si doveva e si poteva vedere forse per nobilitarsi il giovane allora a un certo punto prende il suo cognome e diventa per tutti il beccafumi la sua formazione sappiamo si aggiorna presto sulle opere dei contemporanei è molto fortunato chi nasce nel 1486 in toscana perché lui ha attorno ai vent'anni a modo a firenze di vedere le tre tartarughe ninja tutte e tre al lavoro insieme leonardo michelangelo e raffaello le tartarughe ninja a me vengono in mente diokovic nadal e federe certo leonardo e federe sì nadal e raffaello e michelangelo e diokovic quindi insomma una congiunzione abbastanza unica e poi fa il viaggio un viaggio credo per lui di assoluta importanza perché lo sappiamo nel 1510 beccafumi va a roma due anni trascorre a roma può vedere da vicino la grande pittura raffaello michelangelo ma soprattutto dobbiamo immaginare anche oltre alle figure della cappella sistina che certamente lo ispirano molto perché un artista inquieto non poteva che rimanere affascinato da questa arte così drammaticamente diversa e poi uno che va a roma rimane colpito dall'antichità dall'antichità la vastità delle rovine torna a siena nel 1512 non sappiamo bene perché forse lo richiama il maestro insomma poi comunque stiamo parlando di una città molto ricca con molte committenze famiglie di banchieri famiglie di mercanti e infatti sappiamo che lui ha grande successo sia in ambito laico che in ambito religioso e c'è un po' uno specchio un gioco di specchi tra lui e il sodoma abbiamo detto senese d'adozione perché era piemontese e i due tornano nello stesso periodo nella grande città appunto siena e si guardano si specchiano e incominciano a sviluppare una pittura una pittura nuova per entrambi una pittura bizzarra una pittura fatta di anticlassico il classico è un punto di partenza può essere un elemento decorativo può essere anche un grande arco di trionfo ma non c'è quella serenità di raffaello quella serenità del rinascimento fiorentino e poi gli effetti che beccafumi ottiene con la luce lasciano talvolta pensare a con anticipo davvero immenso a della tour sì ci sono anche dei volti un po' alla della tour poi certamente lui conosceva le incisioni del nord Europa e quindi ha una particolare attenzione a questi ambienti un po' tra l'infernale lo stregonesco c'è tutto un mondo misterioso che emerge dalla sua pittura 1515 ci sono due opere che lo consacrano alla fama dei suoi contemporanei lui aveva già dipinto il trittico della trinità sempre a siena ma le due opere sono il san paolo in trono che oggi è il museo dell'opera del duomo e l'altra sono le stigmate le stigmate di santa caterina certo da siena sotto un portico c'è un vago riferimento a raffaello però le figure sono più allungate i personaggi sembrano delle ombre è un'opera che ben documenta lo scarto che c'è tra beccafumi e i suoi modelli senti gli si chiede di occuparsi anche del duomo perché è l'artista più celebre della città e una lunga collaborazione per i segni delle tarsie marmore del pavimento del duomo e anche questo fa capire il successo di cui godeva in città perché è una lunga attività di fornitore di disegni stiamo parlando di quella splendida pavimentazione bianco nero sì non le fa tutte lui ma ne fa parecchie è un lavoro lungo che lo impegna fino alla metà del cinquecento tra l'altro il pavimento che viene costantemente restaurato scoperto si può di nuovo visitare dal 27 giugno per alcuni periodi tra un palio e l'altro bravissimo andate a vederlo è veramente un'esperienza una pittura di pietra poi come dire vi girate da una parte c'è Michelangelo entrati in una cappella c'è Pinturicchio poi c'è il vino c'è il vino c'è anche la macelleria la liona ecco poi se avete telefonate così volete consigli chiamatemi passaggi in macchina anche partecipare al paglio correre il paglio allora senti fioccano le commissioni viene chiesto di affrescare il soffitto della sala del concistoro certo nel palazzo pubblico dopo Lorenzetti c'è Beccafumi c'è Beccafumi poi gli viene chiesto di lavorare all'abside del Duomo e lì si riunisce ancora una volta col Sodoma certo per gli affreschi dell'oratorio di San Bernardino sempre a Siena c'è la sua natività una composizione grandiosa solenne che ha per fondale le rovine dell'antica Roma quindi c'è un richiamo alla sconfitta del paganesimo è un grande classico non è il solo che ricorre alle rovine di Roma come fondale la sconfitta del paganesimo e il trionfo della nuova Roma cioè la cristianità siamo alla chiesa di San Martino mi raccomando andate a Siena queste sono visite che Beccafumi può accompagnare con una piacevolezza assoluta senti il Vasari per una volta l'abbiamo detto benevolo lo dava i suoi riverberi molto artificiosi nei colori e la riaccia di volti spaventata che bello giusto 1520 Beccafumi torna a Roma perché Roma è una città in cui succedono cose e si possono avere nuove ispirazioni e rientra poi a Siena sappiamo che sta con una donna di nome Andreoccia dalla quale ha due figli e pochi anni dopo la prima moglie muore probabilmente a causa della peste e il nostro Beccafumi si risposa con una Caterina anche da lei altre due figlie sappiamo i nomi Ersilia e Polifile e Polifile tra le opere più importanti che non abbiamo ancora citato vogliamo ricordare il ciclo di affreschi episodi mitologici e della storia romana per il palazzo Bindi Sergaidi bellissimi purtroppo ecco questi affreschi come anche quelli della sala del concistoro fanno venire il torcicollo quindi io consiglio prima di guardarli su un bel libro illustrato online potete trovare molte riproduzioni e poi andare sul posto c'è la discesa al limbo il san michele che scaccia gli angeli ribelli lo sposalizio mistico di santa caterina la natività della vergine e una dolcissima annunciazione senti leonardo lui inizia anche a fare lo scultore sì e ci sono otto angeli che vengono realizzati come porta ceri siamo sulla sulla sull'onda di michelangelo diciamo muore a siena il 18 maggio del 1551 e a siena potete fare un vero e proprio itinerario sulla scia di beccafumi visitando museo la pinacoteca nazionale e tutti i luoghi in cui ci sono le sue opere e anche e anche visitate l'abbiamo detto l'accademia chigiana andate a vedere il duomo la tarsia preferita è il sacrificio di isacco che beccafumi rende in maniera straordinaria questa puntata siccome abbiamo citato il palazzo sergardi dobbiamo dedicare ve lo facciamo con grandissima gioia alla famiglia sergardi in particolare ad anna e a marzia sergardi e a tutti i figli e nipoti meravigliosi e io ho un debito eterno nei loro confronti perché mi hanno fatto diventare tifoso dell'istrice hai capito e come ti sdebiterai cucinando una lupa cucinando una lupa i senesi hanno compreso un contributo è l'istrice che si legge verso la terza e ultima curva del quadrato è caduta la loro è caduta anche la pantera visto il primo istrice seconda l'afila istrice primo seconda l'afila emozionante estremamente emozionante ma come il vento che in un momento poi passa e va ma quando tu sei con me io sono felice perché io rinchiorello l'amore bello vicino a te giorgio albertazzi che ha recitato con lui in jackie il 1969 lo descrive come sempre un passo indietro sottolineando il carattere schivo e riservato del protagonista di oggi tratti che non sono comuni per un attore che ha contribuito in maniera decisiva alla fama di lucchino visconti di antonioni di germi di de santis di pasolini e potremmo andare avanti fino a ospite si è molto giusta la frase di albertazzi perché massimo girotti è stato un attore straordinario però sempre non troppo sotto i riflettori in fondo abbiamo parlato di james mason qualche giorno fa si i due hanno delle somiglianze l'inquietudine vale per entrare il nome di girotti che forse oggi ai più giovani può sembrare così un ricordo vago dobbiamo sottolinearlo è stato un pezzo importantissimo della storia del cinema italiano diciamo che un'altra cosa che li contraddistingue entrambi che ridevano poco ridevano poco è vero girotti abbiamo sempre quest'aria drammatica drammatica e lui nasce oggi nel 1918 a mogliano siamo in provincia di macerata ultimo di tre fratelli poi il destino l'avrebbe portato a roma tre anni dopo quando il padre che faceva il farmacista di nome giuseppe la madre maria maraviglia decidono di trasferirsi a roma per permettere tra l'altro al maggiore al fratello maggiore di frequentare il ginnasio lui va per quattro anni al classico giulio cesare ma a causa di una gravissima malattia deve interrompere e diplomarsi privatamente al Dante Alighieri prima prova ingegneria poi giurisprudenza ma è un belom c'è un fisicaccio c'è un fisicaccio e quindi pratica sci atletica leggera nuoto palla nuoto arriva quasi in serie A come portiere della squadra Lazio nuoto è il Weissmuller di noi altri il primo ad accorgersi delle potenzialità di questo ventenne dal corpo atletico pensate 1,80 oltre e con questo volto bellissimo poi era una bellezza allora diversa dai canoni classici raffinata raffinata cioè era diverso da Rossano Brazzi da Seato da Medeo Nazari certo è Mario Soldati che oltre a essersi innamorato perdutamente della Valli negli stessi anni gli offre una piccola parte in Dora Nelson perché lo vede tuffarsi da un trampolino sì all'inizio lui rifiuta pensando alla fidanzata la futura moglie Marcella Amadio alla famiglia che lo vuole laureato ma Soldati è molto abile a punzecchiarlo a punzecchia e a convincerlo siamo nel 1939 e quindi ci sono i film dei grandi registi da telefoni bianchi Mario Camerini una romantica avventura non può mancare ovviamente Alessandro Blasetti lui sta cercando il protagonista per La Corona di Ferro quello con Gino Cervi e lo chiama a interpretare un personaggio che abbiamo citato Weiss Muller è un po' a metà tra Tarzan e Robin Hood è un insperato e straordinario successo da cui gli deriva un'improvvisa personale popolarità e appunto tu hai citato il caso Weiss Muller che era anche lui campione di nuoto i due si possono ben accostare poi ci sono chiaramente i film di propaganda perché siamo nel 1942 un pilota ritorna di Roberto Rossellini 1943 arriva Lucchino Visconti con il suo primo film Ossessione in cui lo vuole protagonista Ossessione è il capostipite del neorealismo è un film che ribalta gli stereotipi del cinema del ventennio e segna definitivamente il futuro professionale sia dell'attore che del regista e anche di Clara Calamai che ne è protagonista credo per una sostituzione last minute della Magnani con Visconti non solo il cinema nuovo ma anche un nuovo mondo il mondo democratico il mondo dell'Italia che rinasce e lui in questo diciamo è un volto molto spendibile poi è anche schierato con il PC riparte lavorando con i registi migliori del tempo nel 1945 De Sica lo vuole tra gli interpreti della Porta del Cielo film che era stato girato per conto del Vaticano nella Basilica di San Paolo c'è il ritorno a Blasetti Un giorno nella vita poi arriva Zampa con gli anni difficili e di nuovo arriva a Camerini molti sogni per le strade senti arriva anche un regista spesso impegnato amatissimo Pietro Germi che gli fa recitare la parte in gioventù perduta e poi lo fa protagonista in quel bellissimo film che è Il nome della legge voi tutti uomini e donne che vi siete lasciati avvilire dalla paura anche quando si trattava di scoprire e punire gli assassini dei vostri figli che avete tentato di sopraffare la legge persino quando difendeva i vostri interessi avete ammazzato Paolino perché mi avete tutti impedito di amministrare giustizia e di imporre il rispetto della legge con questo film lui ottiene una grande consacrazione è un vero interprete del neorealismo italiano 1947 arriva anche Giuseppe De Santis allora con lui gira caccia tragica Roma ore 11 un marito per Anna Zaccheo la strada lunga un anno e si fanno avanti naturalmente altri grandi registi se potete recuperate il meraviglioso cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni girato in una Milano ancora in ricostruzione e si vede come fondo di questo amore disperato e anticonvenzionale c'è quella scena dell'attraversamento del ponte a piedi che è una cosa bellissima cinema allo stato puro arriva persiane chiuse Luigi Comencini ai margini della legge Carlo Lizzani e ancora l'attuada in lettere a una novizia Visconti lo chiamerà ancora per senso per la strega bruciata viva e per l'innocente lo stile di Massimo Girotti è perfetto per il cinema di Lucchino Visconti però questo non gli impedisce di lavorare anche con un altro un altro mondo che è quello di Paolo Pasolini Pasolini Teorema Medea e poi 1972 ancora un altro grandissimo ultimo tango a Parigi Bernardo Bertolucci citiamo anche Giuliano Montaldo L'Agnese va a morire citiamo Scola Passione d'amore e citiamo Liliana Cavani interno berlinese fino al mostro di Roberto Benigni e abbiamo detto prima una carriera lunghissima da Blasetti a Ospeter perché la finestra di fronte del 2003 è l'ultima una bellissima interpretazione l'ultima parte bellissima la figura di un anziano pasticcere che ha perduto la memoria e la conclusione di una prestigiosissima carriera che sarebbe stata premiata postuma perché lui si spegne nel 2003 il 5 gennaio con il Davide Donatello come miglior attore protagonista è stato anche un protagonista teatrale produzioni internazionali a volte di bassa qualità televisione divulgativa ha interpretato serie tv di grande successo Cime Tempestose Jekyll Cristoforo Colombo Quovadis le mamme le nonne e Piero lo ricordano e Piero soprattutto come il fra Cristoforo nella leggendaria versione dei promessi sposi con la Paola Pitagora e con Nino Castelnuovo per la regia di Sandro Bolchi e la sceneggiatura di Riccardo Bacchelli che mondo questa era la tv oggi c'è solo la legge Bacchelli che noi speriamo di percepire di accivolare qualcosa noi ci congediamo con Cronaca di un amore Michelangelo Antonioni e viva Massimo Girotti Dimmi Hai paura? No, perché? Guido se lasciassimo stare non ci pensassimo più E poi? Anche tu dicevi che non si può continuare così Sì Ma Ma? Poco fa la tua voce era così triste Se credi che mi faccia piacere E allora non farlo alle nostre spalle il libro la gallina è inesorabilmente spenta Tu a che cosa pensi sia dovuto? È spenta secondo me perché abbiamo esaurito i generosi Sì eh che sono stati generosissimi Sì è un manipolo però però non basta non basta a sostentare Adesso daremo dei segnali Quali sono? I macciati sento più magri dei graffi Facciamo passare anche No perché poi gli animali cominceranno a rivoltarsi a un certo punto Il varano ogni tanto vedo che Dà delle morsicate alle caviglie di Piero No no di Amerigo Amerigo non ce le ha più c'è solo l'osso Allora Oggi il Timbota è Sabet Sì Il famoso compagno dell'elementario È un cara È un cara E Vain Bazet Anvel Unfié Cioè Che vuol dire vino battezzato non vale un fiato cioè il vino anacquato Niente Non vale niente non si beve Sì Però noi abbiamo trovato una soluzione Allora questa è una bottiglia di Blanc e Neri che è stata regalata a Paolo Gravazzini e a me in occasione della Cenerentola però Paolo l'ha data solo a me Ecco Ma io la do a te Specifichiamo E noi usiamo questa per anacquare il vino Pensate all'effetto Credo che ci siano 6 milioni di gradi È buonissima perfino all'olfatto Blanc e Neri noi ringraziamo il donatore Qualcuno ci vuole bene Il grande maestro Enrico Calesso Evviva E che doni Che doni Maestro Calesso Cosa facciamo? Dunque domani Roma ore 21 Auditorium Parco della Musica Teatro Studio Borgna Da Trieste alla Dalmazia L'Adriatico L'Adriatico Cento anni di genialità Concerto omaggio a Lelio Luttazzi Uomo dell'Adriatico e non solo Tra i partecipanti a questo splendido concerto un nostro caro amico Che ha acceso la gallina tante volte Tante volte Tony Concina Altro uomo dell'Adriatico Assolutamente Che reduce da un giro in Dalmazia è arrivato fino alle Bucche di Cattaro pensa No Sì sì È andato a trovare tutti i Dalmati Che grande Grandissimo Tony 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 Concina Come Marco Polo Sì o anche un po' come Tony Manero Ah che volendo Però è Tony Concina Numero uno Tutti a Roma Questo concerto straordinario Cento anni di genialità Concerto dedicato a Lelio Luttazzi Tra gli altri Il nostro Tony Concina Non c'è di più Anzi no C'è di più C'è la grappa Che noi porteremo Sì Al concerto Col sacchetto Sai quello Il sacchetto Mettiamola in salvo Va bene Leonardo No perché vedo che Ci sono degli sguardi Il Babi Russa È pronto a tutto È pronto a tutto il Babi Russa Evviva domani Domani Almanacco di bellezza A cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccinini Con Lucia Simioni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samanta Chiodini Realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini Prodotto da Piero Maranghi Una produzione Classica HD Sky Canale 136 In collaborazione Con Intesa San Paolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti